Spinto da Labora, l'incendio che aveva ripreso a preoccupare già da ieri pomeriggio si è avvicinato sempre più alle case. Il sindaco di Savogna ha ordinato l'evacuazione dell'intera frazione di San Michele. Stessa sorte anche per le popolazioni delle frazioni Doberdo del Lago, De Vetachi e Marcottini. In allerta, Gabria e San Martino del Carso. Sindaco di Gorizia, preoccupato per l'incendio che espande sempre di più il fronte, è convinto che dietro al nuovo rogo ci sia la mano dolosa dell'uomo. Speravo davvero che l'incubo fosse finito e non ci fosse più la necessità di aggiornarvi. Per colpa di qualche delinquente, l'incendio è ripreso. Sono stati celebrati nel Duomo di Cividale del Fiuli i funerali in forma solenne dell'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato e volontaria della protezione civile Elena Loduca, presenti le massime autorità civili e militari della regione e i rappresentanti di Polizia e protezione civile nazionale. Dopo due anni è tornato l'atteso air show di Lignano, almeno 200 mila gli appassionati che hanno ammirato le evoluzioni sui cieli davanti alle spiagge della nostra località balneare, show chiuso dal programma delle frecce tricolori. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'ITG News 24. Purtroppo l'incendio che sembrava sotto controllo spinto dalla Bora ha ripreso vigore ieri pomeriggio. In nottata la situazione è notevolmente peggiorata. Andiamo subito, parliamo dell'incendio sul Carso naturalmente, andiamo subito da Francesca Santoro collegata in diretta per le ultimissime novità. Ci sono delle intere frazioni di comuni del Carso che sono state evacuate. Francesca, buonasera. Buonasera Francesco, sono circa 400 le persone che sono state evacuate finora dalle loro case. dico finora perché altri paesi sono stati già pre-alertati, si devono tornare pronti eventualmente all'evacuazione. Poco fa abbiamo sentito il sindaco di Savogna, Luca Pisc, che non può essere qui con noi perché è sul San Michele, nella frazione proprio di San Michele del Carso che è stata quella evacuata già nel corso della notte. Purtroppo il fuoco è arrivato sempre più vicino alle case, adesso è distante appena 30 metri. Quindi compressibilmente il primo cittadino è lì sul posto e non può essere qui con noi. Noi ci troviamo nel centro di Savogna, alle mie spalle potete vedere la colonna di fumo, fumo che si sta spostando a vista d'occhio perché il vento sta continuando a cambiare direzione e questo sta ostacolando le operazioni di soccorso. Al momento sono operativi soltanto quattro elicotteri oltre agli operatori della protezione civile, vigili del fuoco, agli alpini, gasilci sloveni, alla forestale, a tutti gli altri corpi di volontari che stanno cercando in tutti i modi di domare questo incendio. Incendio che è stato detto, è partito ieri nel primo pomeriggio dalla statale del 55, la statale del Vallone, quindi tutto fa pensare che si tratti di un incendio doloso. In questo momento noi ci troviamo davanti alla palestra di Savogna di Sonzo dove sono state allestite le brandine, dove è in corso la distribuzione della cena per alcuni degli sfollati. Altri sfollati sono ospitati dalla ex scuola elementare di Savogna di Sonzo, inoltre il comune di Monfalcone ha messo a disposizione altre due palestre. Abbiamo sentito le voci di alcuni degli operatori che sono in prima linea per cercare di dare un conforto a queste persone e vediamo le interviste che abbiamo raccolto. Noi diamo accoglienza alle persone che arrivano e come vedete li facciamo ospitare qua e poi gli diamo anche da mangiare. Però magari sì, diciamo che noi alpini siamo praticamente stati chiamati, precettati per la parte logistica e per dare il pranzo, la colazione e la cena. Noi abbiamo preparato qui a Savogna, ci sono anche altre palestre che sono state preparate fino giù a Monfalcone. Noi siamo pronti, noi siamo pronti per accogliere appunto le persone tendenzialmente previste. Il gruppo, o meglio tutta la realtà della protezione civile divisa nelle varie aree, tutta qui pronta insieme anche a dei volontari civili di Savogna con l'assessore. Noi siamo qua in attesa con la speranza di riuscire domani mattina a poter riportare le persone probabilmente a casa ma soprattutto poter dire che l'incendio è stato e almeno è sotto controllo. Quindi il nostro compito qui, a differenza di coloro che è proprio sul campo, è quello di accogliere le persone e offrire loro un'opportunità di assistenza dove ce n'è bisogno. Sfollata da San Michele? San Michele, sì, già la seconda volta. Prima volta eravamo sabato notte e questa volta eravamo già pomeriggio. Fuoco tanto vicino alla sua casa? Abbastanza, sì, abbastanza. Ha preso paura? Eh, Dio, sì. Quando si vede il fuoco vicino, il fumo, poi si spaventa. Grande quindi è la preoccupazione da parte delle persone che sono state evacuate fin dalla scorsa notte e fino alle ultime ore. Però grande è anche lo spirito di collaborazione e sicuramente anche la speranza che si possa finalmente presto domare questi incendi e rientrare nelle case. Vediamo le interviste che abbiamo raccolto questa mattina tra gli sfollati già nel corso della notte dalla frazione di San Michele del Carso e poi linea allo studio. Lei è stata svegliata e le è stato detto che dovete andare via di casa? Sì, alle 11 e mezza sono passati i carabinieri dicendo che se sarà necessità dovremmo evacuare, no? Però probabilmente che non c'era questo bisogno, forse il fuoco non arrivava così vicino, però dopo alle 3 e mezza sono arrivati i carabinieri a avvisarci che mi hanno telefonato che bisogna partire. Vi aspettavate di arrivare a tanto? No, perché gli incendi a San Michele ce n'erano già parecchi negli anni precedenti e mai l'eveacuazione proprio non l'abbiamo mai provata, però pensavamo che anche questa volta era solo un... Quanti vi siete spostati? Ma nella nostra... i nostri vicini in tutto eravamo un sei, però dopo c'erano anche altri paesani che non so quali però... Ci hanno detto che ci sono canadere dopo elicotteri in vicinanza e no, adesso non abbiamo paura. Di mattina, quando ci siamo svegliati era tutto rosso dietro la casa, si vedevano le fiamme, ho detto ho preso paura. Anche lei è svegliata stanotte dai carabinieri? Alle 11 mi hanno detto così precauzionale, le avviso e poi alle 3 smammare perché c'è le fiamme vicino alle case. Sei spaventata? No. Sabato sì che era la prima volta, poi ci si abitua e meno male che ci sono, no? Non ci sentiamo soli. Mio marito, per un po' disabile, un po' difficile, no? Adesso attende di tornare a casa? No, adesso io torno a casa e devo andare a Monfalcone per una visita e allora il sindaco mi ha dato il permesso. Prima di chiudere il Tg, torneremo da Francesca Santoro per un ultimo aggiornamento. Ma intanto sentiamo le dichiarazioni di Rudy Ziberna, il sindaco di Gorizia, che si dice convinto che dietro questo nuovo rogo sul Carso ci sia la mano dolosa dell'uomo. Sentiamo. Se si capisce naturalmente la causa naturale perché accade in continuazione, ci mancherebbe, vanno adottate tutte le misure, tutte le cautele per prevenire, per impedire questi incendi, quello che non posso tollerare però è che qualcuno deliberatamente, che uno ritenga perciò dolosamente di appiccare il fuoco. Non abbiamo in questo momento certezza, ma abbiamo tantissimi, tantissimi indizi che ci fanno ritenere che sia opera della mano di un uomo, ma non di un uomo qualsiasi, di una persona idiota e di un mascalzone. So che è poco educativo che un sindaco parli in questi termini, però un mascalzone oltre che un pazzo ci impiegheremo dai 15 ai 25 anni per ripristinare in parte slovena quasi 2.500 ettari andati a fuoco e più di 800 ettari in parte italiana. Andiamo avanti adesso. L'incendio ha fatto una vittima ed è Elena Loduca, volontaria della produzione civile, assistente capo di polizia. Dunque oggi sono svolti i funerali in forma solenne nel duomo di Cividale. La cerimonia funebre è stata ufficiata dal vicario del Vescovo di Udine, Monsignor Guido Genero, unitamente al cappellano della Polizia di Stato, Don Olivo Bottos e dal parroco di Prepotto, padre Andrea Cereser. Alle eseque, oltre alle autorità civili e militari, rappresenta il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Direttore Centrale della Polizia Criminale, Prefetto Vittorio Rizzi, in rappresentanza del Capo della Polizia, che al termine della cerimonia ha voluto esprimere ai parenti di Elena il dolore di tutta la Polizia di Stato. Ascoltiamo le interviste che abbiamo raccolto all'esterno del Duomo con il Presidente della Regione Federica, il Presidente del Consiglio regionale Zanin e con il Vice Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. Andiamo a sentire. Come ho detto durante il discorso, penso che il volontariato della protezione civile venga distinto da una cosa. C'è un volontariato che non si fa per una semplice generosità, per fare un favore agli altri, quando è percepito come un dovere. E la grande differenza della nostra protezione civile è che mettersi a disposizione degli altri è vissuto dai volontari come un dovere. Dal dovere che esalti il Sindaco di essere una parte fondamentale, soprattutto dentro le emergenze, per la propria comunità. Oggi si diranno tante parole, molte retoriche, però il fatto che Elena ci ha dato, il messaggio è quello di essere sempre noi stessi e di anteporre l'interesse comune e l'interesse personale. Elena è un esempio per tutti noi, per chi sempre di più deve impegnarsi ogni giorno a servizio delle comunità, del territorio e del bene comune. Lei ci ha insegnato questo, l'ha fatto con passione, con determinazione, nel suo lavoro da poliziotta, nel suo volontariato a servizio della protezione civile. Ce la portiamo nel cuore, ci portiamo nel cuore questa piazza, oggi, questa chiesa ricca di divise di tutti i colori del nostro servizio nazionale. Siamo orgogliosi, fieri di lei e quindi per lei dovremo fare di più, ancora di più davvero, per la nostra protezione civile. Un passaggio adesso sui dati Covid. Cominciamo dal bilancio nazionale dove spicca ancora l'alto numero dei morti, 199, a fronte di un trend in calo che prosegue per i nuovi contagi, oggi 60.381, 88.425 i guariti, quindi il saldo è a favore dei guariti e scendono i positivi in Italia di quasi 28.000 unità. Andiamo a vedere invece il bilancio della nostra regione dove si contano 1.629 nuovi contagi, meno 180 rispetto a ieri. C'è un ricovero in meno, un posto letto occupato in meno in terapia intensiva, a 4 in meno negli altri reparti dove resta comunque alto il numero delle persone ricoverate, ben 307. I tamponi effettuati sono 8.118, poco meno di 300 o più di ieri, 9 i decessi in Friuli Venezia Giulia, numero molto alto, non si vedeva da molto tempo, un numero così alto di morti, 5.241 si è abbassato il rapporto tra i tamponi effettuati e i contagi riscontrati che è sceso al 20,06%. Parliamo adesso dei consorsi di bonifica. Si è fatto il punto sulla emergenza idrica causata dalla siccità. Il servizio di Angela Caino. Temperatura media di giugno e luglio in costante aumento. Pioggia primaverili pari appena al 40-60% della media climatica degli ultimi 20 anni, con alle spalle un inverno parco di neve. Risultato, portate dei fiumi sempre più scarse e falde in netto abbassamento. Nel grafico, la situazione a Remanzacco, dove quest'anno, linea rossa, la falda freatica era già a meno 48 metri a inizio anno e ora tocca ai meno 53, 10 metri più giù rispetto alla media degli ultimi 15 anni, rappresentata dalla linea verde. Una situazione che sta mettendo l'agricoltura e i consorsi di bonifica della nostra regione a dura prova. Nell'Isontino, la portata dell'Isonso è ai minimi. Oggi parliamo di un rilascio di 8-9 metri cubi, anche se dai diagrammi solo di più. Quando si parlava da 150 cubi a 100 cubi in momenti di buona. Oggi veramente siamo ridotti con la spia della benzina a ceda. siamo rimasti e crollato completamente, però avevamo avuto questo sentore venerdì nel colloquio che ho avuto con le autorità slovene che si stava andando verso questa posizione. Situazione analoga anche per il Cellina Meduna. L'invaso sta calando continuamente, siamo sotto i 5 milioni di metri cubi con una portata del corso d'acqua del Meduna di circa 4 cubi al secondo. Con questi dati è un prelievo giornaliero che se gira attorno ai 250-300 mila cubi giornalieri dall'invaso dovremmo aspettarci dopo l'8-10 di agosto eventuali razionamenti se non cadono piogge copiose nell'ultimo periodo previsti anche per domani in virtù di poter invasare qualcosina. Nell'immediato solo la pioggia può risolvere l'emergenza ma il cambiamento climatico impone di ragionare sul futuro. Le soluzioni potrebbero essere molteplici e diciamo che in questo momento stiamo cercando di puntare sulla raccolta dell'acqua quindi con dei bacini che servono per recuperare l'acqua piovana che cade magari con le famose bombe d'acqua nei periodi un po' più piovosi e dall'altra parte cercando di lavorare ancora sulle riconversioni quindi cercare di strutturare meglio gli impianti irrigui per poter utilizzare meno acqua. Questo vuol dire pensare agli impianti a pioggia con l'utilizzo di pressioni più basse ma anche di meno acqua destinata solo alle colture nel momento in cui servono. In questa emergenza è importante che ci sia l'intervento da parte delle istituzioni era presente a questo incontro dei consorsi di bonifica anche l'assessore regionale Zagner che ha parlato delle risorse messe a disposizione dell'agricoltura del sistema e di tutti quelli che stanno soffrendo a causa della siccità. Per il sistema dei consorsi in totale sono 23 milioni in questa tornata altri 5 erano già stati messi nella tornata precedente e più dobbiamo contare che ci sono alcune progettualità che sono in corso di valutazione e conclusione di bandi PNRR per svariate decine di milioni quindi parliamo di investimenti probabilmente mai visti con queste dimensioni in Friuli Venezia Giulia per riuscire a rendere efficiente l'utilizzo dell'acqua. Attenzione bisogna far chiarezza per fronteggiare la crisi idrica di oggi c'è soltanto la pioggia per quello che significa invece la crisi idrica del domani invece qui ragioniamo su una serie di investimenti sia dal punto di vista della raccolta per quelle irrigazioni di soccorso di precisione sia dal punto di vista dell'incremento sostanziale dei fondi rispetto alle conversioni irrigue noi oggi dobbiamo iniziare a ragionare assieme ai fondi del PNRR che sono stati già allocati e di cui attendiamo la disponibilità proprio per andare a riconvertire gli attuali sistemi di distribuzione di arrivare a un utilizzo migliore dell'acqua in modo da utilizzarne il meno possibile mantenendo invece quelle che sono le superfici asservite e cercando ovvero è possibile di trovare anche delle fonti diverse rispetto a quelle attuali per poter incrementare la superficie su questo ci sono delle iniziative alcune di queste verranno presentate dai colleghi in aula in assestamento rispetto a delle valutazioni possibili su nuove formule di recupero per risorsa idrica noi invece abbiamo messo in campo una attività che Ersa compierà a livello di dimensione aziendale quindi su superfici paragonabili a quelle di un'azienda dove verranno realizzate degli impianti ad altissima efficienza già oggi realizzabili già oggi utilizzabili in modo che chiunque possa andare a toccare con mano che fare irrigazione con sistemi ad alta efficienza si può anche già oggi quindi non delle cose futuribili ma già oggi si possono fare danno degli ottimi risultati in termini di colture e hanno anche dei risparmi economici notevoli la conferenza delle regioni ha messo in campo per i prossimi tre anni risorse per assumere di fatto 120 nuovi medici di base da utilizzare da mettere a disposizione della cittadinanza di questa regione chissà se uno di questi andrà anche a coprire le esigenze del comune di Resiutta qualche giorno fa ha lanciato un grido d'allarme il sindaco di Resiutta Francesco Nesic non c'è il medico di famiglia nel suo comune il servizio di Francesco Colussi la commissione salute della conferenza delle regioni ha dato il via libera all'atto che approva il fabbisogno di medici di medicina generale da formare nel prossimo triennio un provvedimento che si traduce con la possibilità concreta di mettere nel sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia 120 nuovi medici di famiglia entro il 2025 al ritmo di 40 all'anno le giovani leve saranno pronte a prendersi carico di mille assistiti ciascuno con il supporto di un tutor anche durante il periodo di formazione un accordo fondamentale ha commentato il segretario regionale della federazione italiana medici di medicina generale del Friuli Venezia Giulia Fernando Agrusti per contrastare la carenza di medici di medicina generale al quale siamo giunti anche grazie alla disponibilità del presidente Massimiliano Fedriga nonostante questa importante novità è arrivato proprio in questi giorni il grido d'allarme del sindaco di Regiutta Francesco Nesic che lamenta l'assenza di un medico di base da oltre due mesi periodo durante il quale il posto vacante è stato preso temporaneamente da altri medici che però da questa settimana non ci saranno più e fino a Ferragosto l'ambulatorio cittadino resterà pertanto chiuso creando evidenti disagi per le persone che dovranno affidarsi ai medici di base dei comuni limitrofi mi appello al presidente della regione Friuli Venezia Giulia all'assessore regionale alla sanità e al direttore dell'azienda sanitaria unica Friuli Centrale ha dichiarato il primo cittadino perché facciano il possibile per risolvere questa grave mancanza che il mio comune sta vivendo anarchici in azione a Gorizia con scritte sui muri il servizio di Francesca Santoro bandali in azione nel corso della notte i danni del monumento della federazione nazionale arditi d'Italia di Capriva e di una lapide in località sdricca nel comune di Manzano sul tempietto collocato sulla strada regionale 56 sono state realizzate scritte con vernice rossa su due muri ovvero nella storia ai fascisti se appendono a testa in giù la firma dell'autore del gesto è stata apposta in più punti ovvero il disegno di una A che soverchia un volto è stata anche distrutta una tabella che ricordava la creazione il 29 luglio 1917 dei primi reparti diarditi proprio in quei luoghi la data scelta per l'atto vandalico non è stata quindi casuale data la vicinanza con l'anniversario di fondazione nei giorni scorsi sul tema arditi era nata una polemica culminata nella decisione del comune di Capriva di togliere il patrocinio inizialmente concesso alla due giorni di eventi in programma il 30 e 31 luglio per iniziativa della Federazione Nazionale Arditi d'Italia l'appoggio istituzionale del comune di Capriva aveva portato una reazione dura in particolare del PD e dell'AMPI che avevano espresso al proprio sconcerto definendo manifesto foto e programma inquietanti si trattava dei comuni di Capriva e di Manzano località sdricca non di Gorizia chiedo scusa ma adesso andiamo a vedere quali sono le altre notizie di cronaca di giornata nelle flash news a cura di Francesco Colussi oggi pomeriggio poco dopo le 4 un grande incendio si è sviluppato in un deposito di canoi in vetroresina a Sacile in via Mazzini una densa e alta colonna di fumo è stata visibile anche a distanza di chilometri sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Pordenone e la polizia locale di Sacile dopo 12 giorni di agonia in ospedale è deceduto Stefano Bergomas 53 anni titolare di un noto agriturismo a Mariano del Friuli in provincia di Gorizia colpito da una puntura di Calabrone domenica 17 luglio l'uomo non era riuscito a prendere in tempo il kit di cui era dotato era ricoverato in coma nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia vittima dello shock anafilattico provocato dalla puntura un uomo di 28 anni residente nel Goriziano è stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia violenze fisiche psicologiche atteggiamenti svilenti e minacce quotidiane da parte dell'uomo nei confronti della compagna in avanzato stato di gravidanza e della figlia minorenne determinando nella donna una condizione di prostrazione psicologica e di totale sudditanza nei confronti del compagno all'uomo è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico queste le principali notizie di cronaca prima di andare a Lignano sabedoro per parlare dell'air show che è tornato dopo due anni di intoppo a causa della pandemia davanti ad almeno 200.000 spettatori oggi torniamo con Francesca Santoro in diretta siamo all'interno di una palestra che ospita gli sfollati che sono stati evacuati dalle proprie case a scopo precauzionale visto che le fiamme si stanno avvicinando sul carso pedicolosamente alle abitazioni e ai centri abitati Francesca esatto Francesco questa è la palestra di pallavolo di Savonia di Sonzo dove sono state appunto posizionate le brandine per il momento soltanto una ventina ce ne sono molte altre molte altre accattastate dal momento che molti degli sfollati ricordiamo in tutto circa 400 hanno scelto di andare da amici o parenti per trascorrere queste ore per trascorrere la notte in un angolo sono stati anche predisposti dei tavoli dove sia alcuni degli evacuati sia alcuni dei volontari stanno mangiando la cena che è stata offerta da italiane che slovene e dicevamo che alcuni degli sfollati sono stati posizionati invece nella ex scuola elementare di Savonia quelli che hanno portato con sé degli animali soprattutto cani e gatti altre due palestre sono state messe a disposizione a Monfalcone il sentire i volontari quelli che sono tornati giù dal Brestovets proprio dal luogo insomma dove sono in corso le operazioni di spegnimento il timore è che questa notte non si riuscirà a domare le fiamme il vento non aiuta posso testimoniare anche io che da quando siamo arrivati qui nel giro di mezz'ora è cambiato la direzione del vento il fumo adesso sta arrivando verso il centro abitato di Savonia verso Gorizia quindi le operazioni sono molto complicate ti restituisco la linea grazie Francesca e allora andiamo a Lignano da Giulia Soligone che ha documentato oggi questa bella giornata per gli appassionati del volo l'air show di Lignano è tornato quasi 200.000 sulle spiagge siamo qui a Lignano sabbia d'oro per la manifestazione aerea air show che quest'anno ha attirato veramente tantissime persone più di 200.000 abbiamo sentito turisti e anche pendolari che sono qui quest'oggi oltre che il sindaco di Lignano Laura Giorgi ma anche il comandante di rivolto Marco Bertoli oltre che il direttore ecco della manifestazione aerea Vittorio Cucurnia andiamo a sentire che cosa ci hanno detto è una giornata molto significativa per tutti per i Friuli in particolare che finalmente dopo due anni rivede la pattuglia nel cielo perché sono stati due anni credo di sofferenza per tutti e quindi sia un ospicio di rinascita di ripartenza e di grande gioia noi siamo estremamente contenti che dopo due anni finalmente le frecce tricolori tornino a Lignano è un simbolo è sicuramente un simbolo nazionale ma per noi anche regionale perché le frecce tricolori sono qui a un'ora di strada da noi e noi le abbiamo proprio nel cuore insomma siamo come aeronautica militare estremamente felici di tornare qua a Lignano non solo con le nostre frecce tricolori ma anche con altri assetti che dimostrano le nostre varie capacità un'eccellenza che ritorna a casa con particolare riferimento all'eccellenza che tutti abbiamo nel cuore non solo in aeronautica militare ma in tutto il paese ovvero le frecce tricolori a dove arrivate? a Ronso di Cadore scesi unicamente per questa giornata o siete qui in vacanza? no no siamo qua in vacanza siamo venuti solo per vedere l'esibizione delle frecce come sta procedendo questa giornata? come vi sembra? bellissima bellissima veramente bella siete qua in vacanza? no no siamo venuti a posta a posta? a posta a posta per chi? per vedere questo spettacolo è la prima volta che viene a vederlo? le frecce tricolori no sono andata anche a rivolto con mio padre e sì a postantino siamo rimasti estasiati da questo elicottero che ha volato addirittura in orizzontale e tutto il resto si prospetta all'altezza bello una giornata intantevole penso per fortuna abbiamo anche una manifestazione oggi qui per un appassionato di aerei penso che sia la cosa più più bella in assoluto è la cosa positiva delle frecce tricolori racchiude un po' tutti quanti porta a porta un altro pubblico anche dall'estero piace a tutti almeno una cosa carina la si fa ecco da quant'è che segue le frecce tricolori comunque la manifestazione? 40 anni un appassionato vero quindi di fotografie ma non solo di foto e di aerei in genere prima volta? no per me no per la bambina e per la nonna di 93 anni sì è la prima volta che viene a vedere le frecce tricolori è sempre emozionante sì sempre sempre come la prima volta sempre e quanti anni è che sta seguendo questa manifestazione? il primo anno e com'è? finora com'è? bellissimo perché anni c'erano tanti ma questa qua è l'ignano che ho mai visto io vediamo adesso i programmi principali di oggi questa sera una serata di attualità con la puntata di Fair Play in prima serata in cui ci occuperemo di Tavagnacco e delle problematiche di emergenza idrica vedrete un servizio realizzato un reportage realizzato da Barbara Venuti e poi parleremo delle testimonianze esclusive di persone truffate per quanto riguarda il super bonus 110% abbiamo raccolto due testimonianze esclusive in Veneto ma è un problema che riguarda tutto il nord-est ci sono più di 200 denunce contro un consorzio che ha stipulato i contratti ma poi non ha effettuato i lavori li ha fatti in parto li ha fatti male e comunque ci sono le procure di Mezza Italia che stanno indagando chiuderemo la serata la prima serata con un'intervista esclusiva con Tommaso Cerno alle 21.50 il giornalista senatore ormai possiamo dire ex senatore visto che il Parlamento è stato sciolto e a maggior ragione ex perché non intende più ricandidarsi ci parlerà di questa sua scelta e di tanto altro prima serata dalle 21.15 su Udinese TV adesso il Meteo in collaborazione con Trebi Meteo buon proseguimento con la nostra rete amici di Udinese TV un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo venerdì un impulso instabile proveniente dalla Francia porterà a coalzioni temporali a partire dal pomeriggio in montagna e poi in serata interesseranno anche le pianure il clima sarà comunque caldo estivo con massime fino a 33-34 gravi per quanto riguarda il dettaglio delle province di Pordenone e Udine notiamo come dopo una giornata sempre in prevalenza soleggiata e calda arriveranno temporali dal pomeriggio sulle Alpi Carniche sulle Prealpi e poi in serata anche sulle pianure localmente di forte intensità non si escludono grandinate e colpi di vento per quanto riguarda invece le province di Gorizia e Trieste qui i fenomeni arriveranno soltanto in tarda serata a iniziare dalla provincia di Gorizia mentre raggiungeranno il Triestino poi soltanto nella notte successiva per il momento è tutto per maggiori dettagli vi rimando all'app gratuita di Trebi Meteo Grazie a tutti